Sì, ti sento stanco Paolo, sei stanco. Uh, sei stanco, sì, sì. A chi non lo è? A chiunque chiedo la stessa risposta, sono stremato. Vero? Tutti facciamo fino a non farcela più. Sì, sì, ci contorciamo, ci dedichiamo, ci strizziamo. Non che mi dispiace, eh? Io trovo estremamente ininteressanti le persone che non si stanno, che non si dedicano. Sai, i comodoni, i pigri, gli svogliati, quelli che si approfittano, no? Già che ci sei, no, 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 io preferisco, io ci penso io. Guarda, lascia fare a me. Gli ossessivi Paolo, sì, gli iperattivi, i concentrati, quelli con le idee fisse, le fisime. Uh, basta una qualsiasi mania ben coltivata Paolo a renderti migliore.